Buongiorno, signor Alessandro Sesti, direttore generale del portale Lavoro e Formazione.it. Quali sono i servizi che voi date a un francesi per poter reclutare i suoi dipendenti? Buongiorno, Lavoro e Formazione è un gruppo che attraverso il suo portale permette appunto alle aziende che fanno franchising di reperire personale qualificato per quanto riguarda sia l'azienda generale sia tutti i propri punti vendita attraverso la pubblicazione dell'offerta lavorativa e della ricerca in corso sul nostro portale. Questa pubblicazione permette di inserire i requisiti richiesti, quelle che sono le prerogative per quali questa figura è ricercata e di andare a selezionare per zona, per provincia, quelle che sono le figure professionali ricercate. I servizi comprendono la possibilità di andare a selezionare i curricula ricevuti filtrandoli in base alle caratteristiche desiderate, quindi Lavoro e Formazione.it non dà solo la possibilità di pubblicare l'annuncio e di reperire i curricula necessari, ma anche di gestirli, ordinarli, separarli, filtrarli in base a quelle che sono naturalmente le esigenze sia dell'azienda madre del franchising sia di tutti gli affiliati di cui naturalmente l'azienda si prende in carico la possibilità di utilizzare il servizio.